Il Workplace Health Promotion, WHP, è il programma promosso dalla Regione Toscana per migliorare la salute ed il benessere delle persone che lavorano in enti ed imprese pubbliche e private. Scegliendo di aderire al WHP, le imprese e gli enti si impegnano per promuovere una corretta alimentazione, l'attività fisica, la sicurezza stradale, la mobilità sostenibile, il benessere lavorativo e la conciliazione vita-lavoro. Allo stesso modo sostengono il contrasto alle dipendenze, al fumo di tabacco, al consumo eccessivo e dannoso di alcol. Le attività, dette buone pratiche, hanno lo scopo di sensibilizzare i lavoratori ad adottare comportamenti che proteggano la salute e che migliorino il benessere lavorativo. Cosa si ottiene aderendo al programma WHP? WHP? Le imprese e gli enti che scelgono di aderire al programma, con le buone pratiche, orientano in modo positivo le abitudini di vita dei lavoratori, riducendo così l'assenteismo e la possibilità che si manifestino malattie croniche non trasmissibili. Fare parte di una comunità lavorativa che riconosce l'importanza fondamentale di promuovere la salute e il benessere. Accresce il senso di appartenenza, la motivazione e la spinta alla crescita professionale di chi ne fa parte. Non solo. Le imprese che scelgono di aderire al programma WHP possono ottenere benefici fiscali ai fini IRS e IRAP e vantaggi dall'e-mail. L'adesione al programma è gratuita e aperta ad enti e imprese pubbliche e private della Toscana che sono in possesso dei prerequisiti richiesti. Per tutte le informazioni puoi contattare il referente WHP dell'azienda USL territorialmente competente. Per il programma WHP, i prerequisiti, l'adesione, la modulistica da scaricare per presentare la domanda alla Regione Toscana, visita l'indirizzo www.regione.toscana.it slash WHP In questo momento difficile, lavoriamo insieme per la salute di tutti. Sei tu a fare la differenza. In questo momento è chiaro.